E' stato convocato per il prossimo 31 luglio il Consiglio Comunale di Ponte Cagnano-Faiano. All'ordine del giorno il riconoscimento di due debiti fuori bilancio, la ratifica della variazione al bilancio di previsione 2018-2020, l'approvazione del piano economico dell'azienda speciale che gestisce la farmacia comunale e la rideterminazione del compenso dei componenti dell'organo di revisione. La seduta si terrà presso la Sala Conveni del Museo Archeologico di Via Lucania a partire dalle ore 19.